perché esi omega 3 extra puro esi omega 3 extra puro è un integratore alimentare a base di olio di pesce concentrato acciughe pure ricco di acidi grassi polinsaturi della serie omega 3 standardizzati e altamente concentrati di altissima qualità e purezza esi utilizza una tecnologia brevettata che gli permette di prevenire il reflusso sgradevole ed eliminare completamente l'odore di pesce omega 3 extra strong ha il certificato a 5 stelle ifo fish oil standards che è la certificazione più importante per i prodotti a base di omega 3 un rigoroso protocollo di analisi ha assegnato a omega 3 le 5 stelle ifos garantendo al consumatore la qualità la sicurezza e purezza del prodotto l'omega 3 extra pure garantisce che il prodotto provenga da una fonte nota e tracciabile 100% acciughe pure pescate nelle acque cristalline dell'oceano pacifico meridionale omega 3 extra pure è certificato per la pesca sostenibile leader per prodotti e servizi che rispettano e proteggono l'ambiente marino oltretutto acidi grassi omega 3 presentati nella loro forma naturale di acidi grassi liberi maggiore biodisponibilità rispetto alla forma di etilester con antiossidanti naturali estratto di rosmarino e vitamina e perché assumere omega 3 extra puro omega 3 extra pure contribuisce al corretto funzionamento del cuore grazie ai 250 mg di epa e dha i 250 mg di dha contribuiscono al mantenimento della normale funzione cerebrale e al mantenimento della vista in condizioni normali omega 3 extra strong pure contiene 2 grammi di epa e dha che contribuiscono al mantenimento dei normali livelli di trigliceridi nel sangue e al mantenimento della normale pressione sanguigna la vitamina e contribuisce alla protezione delle cellule dal danno ossidativo un articolo di catalina vidal ramirez farmacista dirigente presso bio trattino farma punto es le informazioni presentate in questo articolo non sostituiscono in alcun modo il parere di un medico qualsiasi menzione in questo articolo di un prodotto non rappresenta l'approvazione degli sdg sustainable development goals per quel prodotto